Per loro può essere tanta roba, poi è ovvio che ci sono anche i gol, perché se sono venuto qui, perché saranno anche i gol, quindi un po' è un po' ovvio, quindi c'è sempre un certo equilibrio, quindi sono venuto qui sia per rispettare la mia esperienza e la mia sacchezza di ciao a questi ragazzi in tanto, in certi movimenti, in certe cose, ma anche all'anno di gol. Grazie.